Noi dobbiamo ringraziare di cuore tutti quelli che ci seguono, che condividono i nostri video, i nostri audio, ormai sono diventati veramente virali. Lasciatemi salutare anche la famiglia catalana che vive negli Stati Uniti e che ci sta seguendo. Ah, ma che? Aaaaaaah! Scusate, bloccate, bloccate, bloccate. Aaaaaaah! Ma che? Sì, ferma, chiudi, ma che? Ma che modi sono questa è una trasmissione elegante? Due tamarri come voi? E che mi metti sarà cinque giorni? Non l'ho neanche toccato. E che mi metti sarà cinque giorni? Fermo! Non l'ho neanche toccato. Ma chi è statale? Ma chi è statale? Ma chi è statale? Io non sto guardando niente. Chi è statale? Sosci il malancino! Io mi chiamo Cristiano. Io mi chiamo Cristiano. Perché mi mette la mano così? Quando passiamo nocce ho l'occhio in dera, mio frate. Capito, l'occhio in dera. Allora, questo è uno studio televisivo. E tu cerca di essere educato. Deve essere educato. Che avete fatto? Questo è uno studio televisivo, prendete le posizioni. Ma cos'è? No, no, che è quello? Fermo! Ma chi è il malancino? Ah! Io ti ascolto. Scusi. Io ti ascolto. Scusi. Che è che vuoi? Quello è il nostro cameraman? State vedendo che noi abbiamo due marketing. Ma perché voi fate marketing? Come no? Stiamo facendo una linea di abbigliamento, la stiamo producendo di mattina. Di Martino? Di Martino produce una linea di abbigliamento? Mi sembra. Dopo Versace non ci chiedono. Ma che cos'è? Di Martino? Ehi! Che è stato italiano? Non è il mio genere, però. Ma con chi ce l'ha? Fermo, scusi. Ma chi è stato italiano? Scusi. Che se mi mangiò? Se si guarda mi fai attaccare, se mi mangiò mi mangiò. Signor Lucio. Ma qua 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 qua. Signor Lucio. Signor Lucio. Signor Lucio. Signor Lucio. Ehi! Questa è la borsa. Ma che sei portato? Il borsa? Questa è la borsa del signore. Ma questo è il borsa del signore. Che stiamo portando? Facendo una cosa. Facendo una cosa. Allora, parola pure. Che stiamo andando a scuola. Parli di educato. Parli di educato. Mi stai facendo fare un corso di educazione. Ma che corso di educazione è? Stai a scuola. Che corso è? Nella buona che stiamo andando. Dalle? Dalle suone? Della buona. Non capisci? Ah, le orsoline. Alle orsoline. Come? Alle orsoline. Alle orsoline. Alle orsoline. Alle orsoline. Alle orsoline. È un istituto. No, no. Sono buoni che chiedono velo. E le orsoline? Bravissime, bravissime. Perché c'è una parola di poesia. Sabe fare tutto? Le poesie? Tutto. Con chi c'è là? Ma chi sta tagliando? Ancora con questo che sta tagliando. Ma chi sta tagliando? Oh, scusa. No, ma... O che fai a Pidavella? Guarda che non sciopriamo. Non ci possiamo dire. Cacchiamo un po' la nocce. Non è a posto. 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 Non è a posto, ma il frate. Ora rubiamo il durenti e ti buttiamo. Non è a posto. Non è a posto, ma il frate. Stavo dicendo. I vicini ti ho scriviti a scuola. I demoni. Ci hanno fatto fare le poesie. Ma che non mi piace? C'è la poesia che sei tu? Qua? Ti ha sapere una poesia, ma è un po' bravo. Dicela. Dicela. Dicela di Castiglione. Ma tu sono da piccola. Bravo! Ma che poesia! Ehi, amore! Guardi che state scombinando tutto lo studio. Buon giù. Buon giù. Che è successo? Scende. Con chi ce l'ha? Scende. No, no, no. Aiutati! Roberto scende perché in coppia lo siete faccia ballare lo tip-tap. Tac-tac-tac-tac-tac-tac. Certo. Chiedo scusa al pubblico. Io non ho... Eh, frate. Non siamo malati. Eh... Eh... Scusate. 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 Il signor Roberto si occupa della sicurezza. Vado, ma qualcuno sta parlando. Tu c'hai Roberto qua. E... E... Sono migliano, guarda. Non filma, guarda. Non filma, guarda. Non filma Roberto? Che fa nel filma? Che fa? Sto facendo pollepocket. Che fa? Hahahaha. Hahahaha. Pollo... Pollo... Pollo pocket. Sei la buona pupita che tenere? Si, Pollo pocket. E tu fa pollepocket. Ma Roberto una brava persona. Guardi, come fai a rapinido? Nessuno. Ma quello che sta dicendo? O scettate. Il signor è come scerre. O scettate. Allora io vi pregherei di tenere... Diciti po' di sì! 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 Diciti po' di da... Io non mi dissocio da questo tipo di... Che filastrocca è? Ma perché fa così con la... Uno... Da moglie in bruno. Due. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. No, ma tutto solo facciamo i prove. Direttamente. Ma non esce come un bambarano. Direttamente. Allora io vi prego, vi prego. Un attimo di attenzione. Guardate. Mettetevi qua, mettetevi qua. Io vi prego. Guardate. Scusate. Ma che io sono... La telecamera è là. Scusi. Ma chi sta tagliando? Signor Luccio. Ciò c'è mai l'angeno. Signor Luccio. Ascolta. Questo è uno studio televisivo. La nostra prima puntata. Si metta più qua. E' un programma elegante. Dove... Ma no. Abbiamo fatto le cose fatte bene. Siamo... Una realtà interessante. Per cui è giusto. Ma che avete nel portafoglio? Ah, il terreno contro là. Ma è il portafoglio del Signore. Che non interessa? Ci torna. Ma non potete così aprire... Ma non è che potete tirare le borse alla gente così in studio? Ah, ma ci tornavo perché sarebbe... Io lo tornavo. Io lo tornavo. Io lo tornavo. Io lo tornavo. Ma che fai? Gli sputa? Ma che fate? Il gel! La boccina parlava. Dici, dici, ti dico... Tu, dici, ti dico... No, lei mi ha già rotto il naso. Non si preoccupi. Stasera poi facciamo i cosi. Mi dica. Sento un bocciolino di... Non si preoccupi. Non si preoccupi, non si... Come c'è... Dai, chiedo, dai, che suona la musica. Nooo... Io mi rifiuto veramente, io non ho parole, non ho parole. Ascolti, la prossima volta che io vengo qui a ballo, io non mi faccio battere le mani. Vuoi essere da primo, da secondo o da terzo? Che cosa? Cancelo Rosciamatero. Qualche addirittura cancelo Rosciamatero? E saluto bene! Lucio e Chievi! Obbligità, obbligità! Se ne vado, se ne vado, se ne vado, se ne vado l'hai uscita, se ne vado che c'è l'uscita. Dai la pubblicità! Io vado un attimo in pubblicità, cerco un medico, il giornato rotto. Torniamo tra poco. No, non la c'è l'unica, c'è l'unica. Torniamo tra poco. No, non c'è l'unica. No, non c'è l'unica. Ancora da guida.